Ciao belli! Grax cambia deck! Sto scherzando, andiamo a testare un deck, forse il miglior deck al momento con il domatore. Per quale motivo? Perché se voi andate in classifica, io molto spesso ci vado per vedere quali sono i deck meta, quali sono le combo che funzionano di più, il deck più alto in assoluto col domatore, mo ve lo devo cercare perché non lo ritrovo. Nel frattempo vi chiedo subito un like, l'iscrizione ne mancano 85, siamo a 14.000, dagli con l'iscrizione. Codice Grax in the shop, alla fine del shop, attivata la campanella eccetera. Riuscirò a trovarlo, il deck più alto con il domatore, mo non mi ricordo quanto stava in classifica. Eccolo! Trovato! Il signor Kitassian, 27esimo al mondo, comunque il domatore è abbastanza basso, secondo me riceverà qualche potenziamento tattico, qualche carta magari dei deck con il domatore. Ah, la valchiria, il domatore, la pirotecnica, la tesla, gli scheletrini, il congelino, il log e la terremoto. Perché vado su questo deck? Perché Grax ce l'ha maxato. Sapete bene che sto messo un po' male con le carte, il mio account è sempre stato no jamming, il pass mi sta dando una grande mano a maxare le carte, però ci sono delle carte che sono fondamentali tipo per il pecca, cioè io non posso andare con la bandit a 6.000 coppe, me devastano, con il golem non posso andare con il boscaiolo a livello 10. Ci sono delle carte che ho molto basse, ma con calma le faremo, non vi preoccupate, i deck che posso portare maxati ve li porto. E questo è sicuramente un ottimo deck, il problema è che è un ottimo deck sulle mani giuste. Su quelle dei Grax come sarà? Andiamo a testarlo, proviamo a tornare a 6.000 coppe. Se volete altri deck, magari della top, lasciate, ripeto, un mega like. Siamo in partita con questo deck, io parto subito perché è un deck che ha un funzionamento abbastanza simile al 2.6. Tutto sta però nel saper difendere con le nuove carte, io credo che una Valkyria sia fondamentale da mettere qua prima ancora che quel signorino jumpi e se riuscissi a colpire col pirotecnico dovrei stare abbastanza tranquillo. In realtà qui mi hanno subito massacrato, ci metto un congelino, lo faccio jumpare lì, ho difeso. Pensavo peggio ragazzi, pensavo molto peggio. Perché sulla pirotecnica c'è, se lui mette la struttura c'è la terremoto. Vi dirò l'inizio è top. Attenzione. Piacevolmente sorpreso il Grax, oh quanti danni sta a fare. Oh ma quanto è forte la Pyro. Qua ci metto una Tesla, mi piace di più in questo frangente. Almeno poi la Valkyria per difendere tutto. E ho la pirotecnica, in realtà mi serviva la Tesla però va bene. In teoria quella terremoto dovrebbe fermarsi, giusto? Che se ferma regà non so neanche utilizzare la terremoto, lasciate perdere. Però ho difeso, ho lì guandanno. Pensavo la terremoto fermasse tutto o no, la terremoto è de terra. Grax, quando usi terremoto ad un Pokémon volante, non ha effetto su quel Pokémon! Come te lo devo dire? È giocato anni a Pokémon! Pollastro! Vabbè, domatore che parte, gran cavaliere che giampa sicuro. Au! Do stai? Ok, è arrivato. La Tesla mi serve sulla mongolfiera. Non ridete, perché io lo so che ridete da casa. Non ridete! Non c'è niente da ridere! Non ridete le malefatte dei Grax. Calmi! Qui cerchiamo di fare chip damage. Io dovrò mettere degli scheletrini. La pirotecnica, apparentemente, è fondamentale su sto deck. Tutto gira intorno alla pirotecnica. Tutto gira intorno alla pyro. Oh, 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 tecnica. E il domatore va dritto! Dai, domatore! E questo è molto buono! Certo, se il buongiollo si vede dal mattino, ti dirò che questo deck potrebbe anche workare. La Tesla funziona? Ma porca miseria! Avete capito il motivo per cui non si cambia deck? Ci vale tempo per capirlo. Devo capire tutti i pro tips. Cioè, io questa partita l'avevo vinta. Io adesso gliel'ho fatta probabilmente vincere. Non è detta ancora, eh. Però certo sull'1-1 con la mongolfiera. La Tesla ha un raggio d'azione di impegno minore rispetto al cannone. Quindi non la puoi mettere lì, la puoi mettere vicino. Se l'avessi messa vicino non ci sarebbero stati problemi. Lasciate perdere. Siamo ancora in carreggiata. Cerchiamo di recuperarla. Potrò chiuderla tranquillamente nei tre minuti. Non ridete! Da casa! Non c'è niente da ridere! Fate i seri. Un attimo che devo fermare tutto lì. La pirotecnica nel frattempo colpisce. Ok, mi piace. Dovrò tirare, penso, un sacco di roba. Certo, se becco... Ah, qui ho fatto tanti danni comunque, eh. E non... È hittato, però che sfiga, ragazzi. Che sfiga! Come ha fatto hittà! Incredibile! Domatore che c'è sta doppia pirotecnica e viene tolta dal log. Oramai penso che sia andata. Partita iniziale tosta. Mi è capitato un deck e ho potuto battere tranquillamente. Non ci fate caso. Però il deck è molto buono, eh. Non so se avete visto degli sprazzi interessanti. Non l'ho giocata male, sono sincero. L'ho giocata da schifo. Però dico, quando c'era bisogno di pushare, abbiamo pushato bene. Ormai penso che sia senso unico. Non ripete. Attenzione. Pirotecnica. Scheletrini. Poi la gente ti dice, Crax cambia deck, no? Ma ogni carta... E poi a 6.000 coppe non è semplice. Comunque il discorso è che ogni carta ha i suoi pro tips, ha le sue giocate precise. Oramai la partita è praticamente andata. Potrei provare a fare qualcosa di tattico. Cerco di ripartire con un altro domatore. Se riuscissi a vincerla sarebbe incredibile, ma... Come fai a vincerla? Quando c'è il gran cavallo che ti jumpa sulla testa. Li faccio un dannetto tattico. Lui c'ha sempre il log. Pyro. La Tesla andava messa così. Se io avessi messo la Tesla in quella posizione, non ci sarebbero stati problemi. E mo' ci stanno problemi pure grossi. Vabbè, la prima è nata. È goliardica la prima. Andiamo col secondo match. Va bene, secondo match. Questa volta gioco bene. Ve lo prometto, questa volta gioco bene. Secondo me ero pure counter, eh. Probabilmente ero pure counter prima. Ma non ci fate caso. A posto. Mo' la Tesla si mette così contro il Golem. Qual è il modo più efficiente per la Tesla? Fatemelo sapere. Qui intanto so danni. Cerco di non perdere eventualmente la situazione. La Bandit si prende una marda di danni. E in teoria la Bandit non dovrebbe jumparmi la Tower. Valkyrie che difende. Buona difesa sul Golem. Sicuramente con questo deck difendo molto meglio il Golem perché ho più carte toste da mettere in difesa. Invece con il 2.6 devi cercare di gestirla un pochino con difficoltà. Però, domatore che parte. Pirotecnica che c'è. Sta la Pirotecnica. Se ti aggancia la torre, ti massacra. Cioè non mi dite che questo è il deck Golem con Tornado. E lo devo andare a battere con un deck che non ho mai utilizzato. Che funziona. È sicuramente meta perché so ventiquattresimi al mondo con questo deck. Io improvviso. Pirotecnica che parte. Mi è crashato nel gato però è arrivato un colpo. Ve lo dico io. Spiritello. Lui ha sprecato pure 3 delisir. Non è sicuramente un player fortissimo per come sta giocando. Se lui partisse, ragazzi, col Golem a sinistra... E non l'ha messo, ragazzi. Se avesse messo il Golem a sinistra avrebbe fatto un push clamoroso. Però la Valkyria ci sta. E so danni pure grossi. Potevo fare più danni. Quello è vero. Mo non c'ho il Moschettiere. Col Moschettiere avrei difeso sicuramente. Very meglio. Attenzione al Bandit che mi va sulla torre. Ma alla fine vi dirò che la difesa c'è stata. Io mi sa che replico il Domatore push con la Valkyria. Che mette? Mette qualcosa? Ma siamo in per due. Dai, mo! Buttate giù, vai, Grax! Piro Tecnica che colpisce. Domatore che ci sta? Dovrei fare un doppio danno più danno della Piro Tecnica. E che fai? Da nei primi? No. Un abbraccio al Signor Ciccio. Per la citazione. Questo lo togliamo. Congilino. Avrei un'altra Valkyria, però sta botta mi sa che mi tocca metterla dalla parte giusta la Valkyrie. Altrimenti non ce la faccio. Draghetto che va giù abbastanza easy. Pyro che mi serve per difendere. Ok. E sfondiamo il Golem. Al momento lo sto devastando, ma magari perdo pure, eh. Però al momento io lo sto devastando questo deck. Valkyria veloce. Togli quello. Mi sono fatto prendere il sacco i danni a destra, ma... Dove difendere a sinistra altrimenti è una torre. Domatore che parte. Spiritello. Luce al Drago e dovrei fare almeno tre danni e torre fatta. Ok. Quindi. Mazza ragazzi, funziona il deck. E non lo so utilizzare. E non lo so utilizzare. Ma questo era Counter. Con un deck che non so utilizzare. Io vi regalo un'altra partita perché siamo sull'1-1. Voglio fare il 2-1. Fatemi sapere se devo pushare con questo deck. Secondo me, se riesco, diciamo, a padroneggiare qualche Pro Dips, si possono fare cose interessanti, eh. Congilino. Contro 11. Eleven. È livello 12. Qua. Devo assolutamente performare. Non posso sbagliare. Arciere Pyro. E non me l'ho fatta accassolatamente. Ma secondo puoi fare un push dei Valkyrie e Domatore in prima mano. Funziona? Questo potrebbe essere un altro deck Golem, eh. Oh. 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 Ma non mi danni. Peccato per la Valkyrie che sta un po' avanti. Però Valkyrie e Domatore è best combo nel mondo. Congilino. Ok. Scheletri nitattici. Peccato che mi tocca andare de Pyro. Vado de Pyro. Vado de Pyro. Eh, vabbè. Poteva anche non utilizzarla. Lasciate perdere. Altro deck Golem. A me credo convenga fare una cosa di questo tipo. Cioè, Log e Domatore in this modo. Io ancora non ho utilizzato la Terremoto per farvi capire. Sono poco pratico di utilizzare la Terremoto. Luce la Tornado. Solo che a livello 12 mi mette un po' più pensiero. Perché su me è leggermente più forte come player. Ma se io riuscissi a mettere la Valkyrie. E il Congilino per stare tranquillo. Congelare, pulire e fare danni grossi. Qua la pirotecnica io dovrei starci. La metto qua. Ragazzi. Tesla e Valkyrie. Il Golem lo scioglie. Tesla e Valkyrie. E il Golem lo saluti easy. I mistrelli buoni. Cerchiamo di toglierli. Lui è leggermente in vantaggio. Metto un Domatore. Non ha la Tornado perché non ha ciclato. Dragola ha messo dietro. Dovrà mettere penso il mini pecca. Ok. Solo che a me conviene andare di Log. Aspettate. C'ho paura di sbagliare. Congilino. E credo Valkyrie per forza. Mamma mia rega. Ho rischiato. Però ho preso troppi danni. Qui ho sbagliato penso. Qui credo di aver sbagliato. Il Drago fa un sacco di danni. Se lui c'è una spella grossa. Mi fanno amare dei danni. Però la Valkyrie mi difende leggermente. Ce l'ha tornato. La devi mettere per forza. Danno triplo del Domatore. E' un peccato perché se avessi giocato meglio l'avrei difesa. Sono sicuro di questo. Solo che mi manca un po' di skill. Buone le frecce. Buona anche la mia Valkyrie che va a difendere. Buona la sua fulmine. Immaginavo ragazzi avesse la spella cicciotta. Però in teoria ce ne andiamo sulle doppie corone penso. Eh non mi arriva il danno del Domatore ragazzi. Cavolo bella giocata parte sua. 20 secondi per provare a ciclare qualcosa. In teoria un altro Domatore dovrei averlo. Solo che lui va di Golem. Se non difendo il Golem poi come faccio? Quello è un problema. Vabbè c'aveva le frecce. Possiamo diciamo lamentarci di questo. Con le frecce è tutto più difficile. La Valkyrie però ce l'ho. Oh calmi calmi calmi. Calmo Crax calmo. Che c'è la Valkyrie più la pirotecnica dietro. E secondo me ha pure sbagliato. Non è vero perché comunque mi ha fatto una sbragata di danni. Non penso di recuperarla. So sincero. Devo ancora capire come si utilizza la terremoto. Se va messa sul pecca. Se non c'è va messa. Quello non ve lo so dire. Però se io questo lo faccio andare a sinistra. A me non mi frega niente dalla torre da destra. So se... Ma avete capito? Congelino. Valkyrietta. Questo va giù. Attenzione. Lucia la fulmine. Ricordiamocelo. Quindi vado di domatore. Mi sa che comincio a mettere un po' di terremoto. Esattamente. La terremoto rallenta. E faccio chip damage. Non vorrei aver sprecato troppa roba. Però la Valkyrie è stata avanti dietro tutti quanti. Lucia le frecce. Sicuramente. Fulmine per la Pyro. E allora aspettate un attimo. Perché io qua vado col domatore. E io qua vado con la terremoto. E la terremoto dovrebbe... Aspettate un attimo. Io non penso di averla vinta. Ma penso di averla giocata bene. Peccato che non c'ho spell, regà. Ma come non c'ho spell? Ma certo che c'ho spell. Ragazzi! Hit the like! Iscrivetevi. È fondamentale. Ne mancano pochissimi. Codici e crax. Attivate le campanelle. Quello che vi pare. Non ho fatto le 6.000 perché ho perso la prima. Ma so contento lo stesso. Fatemi sapere cosa ripensate. Il deck è una bomba. Ma devo saperlo giocare bene. Mi ci vuole un po' di tempo. Ci becchiamo alle 14 con Clash of Clans. E stasera con Clash Royale. Vi aspetto per il deck 2.8 Valkyria o Grider. Bacioni. Ciao belli. Ciao ciao.